o stanno facendo una ricognizione qua davanti? conquista conquista e allora aspetta che mi diverso press rosso ho visto anche dove la stanno facendo aspetta segnalo il bersaglio per un attacco aereo qui Stryker 3 ricevuto attacco in corso attenzione bombardamento di precisione alleato in arrivo arriva un lancio d'equipaggiamento dobbiamo andare in fantasmia e la terra non me l'ha confermato si vede che c'era la vita piassi in arrivo la stazione d'acquisto me l'ho dato invece occhio perché allo shop c'era gente Ale grazie